la biblioteca è ora di dormire questa sera vi leggerò la storia della scimmietta rossa dice mamma pig uffa mamma ci leggi sempre lo stesso libro si lamenta peppa dai scegliamo un'altra storia nella libreria ci sono tanti libri la tigre blu il ragno verde il pinguino arancione o c'è anche un libro di papà pig ecco dove era finito esclama il papà è un libro che ho preso in biblioteca che cos'è una biblioteca chiede peppa è un posto dove si prendono in prestito i libri e quando hai finito di leggerli li restituisci spiega papà pig per favore papà ci leggi il tuo libro ma il libro di papà pig è noiosissimo e peppa george mamma pig si addormentano subito il giorno dopo peppa e la sua famiglia vanno in biblioteca così peppa potrà prendere nuovi libri e papà pig potrà riconsegnare il libro che aveva preso quanti libri ci sono in biblioteca che meraviglia ma bisogna fare silenzio e non disturbare chi è qui per leggere ricorda papà pig oh oh papà pig ha riportato il suo libro in ritardo e il computer se n'è accorto papà distrattone ride peppa la bibliotecaria mostra peppe a george il settore per bambini peppa vuole prendere in prestito un libro sulle fate e george uno sui dinosauri in biblioteca ci sono anche gli amici di peppa danny cane ha preso un libro sul calcio e susi pecora uno sulle infermiere mamma pig ha trovato un libro della scimmietta rossa ma questa volta è una storia nuova e molto divertente la biblioteca è piena di sorprese fine